Salve, sono Andrea Zappuli, responsabile della ricerca e della didattica presso il Carta Storie, museo della Fondazione Banco di Napoli che valorizza il grande archivio storico del Banco di Napoli. Questo archivio, dal 1502 ai giorni nostri, per oltre 80 km di caffalature lineari, raccoglie ricordi e pezzi di vita quotidiana di tutta la Napoli dal 500 al 900, di tutto il Mezzogiorno d'Italia e dell'Europa Mediterranea. In questa miriade di tasselli che vanno dalle grandi transazioni di Spagna fino alle più minute operazioni quotidiane, abbiamo deciso di pescare e dimostrare un documento di particolare interesse, perché è un documento che descrive nei dettagli un'opera d'arte, probabilmente bellissima, che non è possibile ammirare o immaginare in altro mondo. Si tratta di una causale di pagamento che descrive una transazione tra Nicolò Radolovic, ricco mercante di Dubrovnik in Croazia, marchese di Polignano, e Michelangelo Caravaggio. È il 6 ottobre 1606. Michelangelo Caravaggio arriva a Napoli e riceve un poderoso anticipo di 200 ducati da parte di Nicolò Radolovic. Grazie al documento, grazie alla specificità di questo documento, noi possiamo leggere e immaginare perché. Una pala d'altare. Il marchese di Polignano vuole una pala d'altare con le figure della Madonna, di San Nicola, di San Vito, di San Domenico, di San Francesco, il tutto sormontato da un coro d'angeli. Questa specificità della descrizione, questa ricchezza di particolari nella descrizione ci aiuta a immaginare, rende possibile immaginare il quadro. Il documento è oltremodo interessante perché non c'è traccia dell'opera finita e non si sa se Caravaggio abbia deciso di non completare l'opera, magari prendendo comunque l'anticipo di 200 ducati, o se l'opera in sé sia andata distrutta e persa nel tempo. Questo documento è particolarmente interessante perché aiuta a capire come questo grande archivio aiuti a ricostruire non solo la storia del passato visibile, delle opere d'arte visibili, ma anche a ripercorrere, a ricostruire dei contorni, di ciò che esisteva, di ciò che doveva esistere e oggi non è visibile o non è mai esistito. Grazie.